hi everyone oggi vi propongo un video un po speciale una sorta di commento dei miei commenti tipo primo commento prima e dopo dopo e prima che non è una generata perché è una cacca concordo il punto è tre ore e tredici minuti bene signori avete appena visto la lunghezza del video no dai sto scassando un po di classici signori il gioco si chiama se si canti perdi io lo farò all'incontrario ovvero se canti mi sembra logico nessuno tira non me l'aspettavo è mio è sorprendente accanto a te vedi che è così si ha messe male lo sai non c'è sensazione vedi che cosa si funziona pure di vedere tutorial qualcosa stiamo imparando grazie dov'è che andrò anche il vento mi spiora ah sì quelle stupide linee sensibili anche sensibili che poi stavo pensando ai film che stanno rifacendo della disney tutto in digitale eccetera io ritenevo fossero inutili però in realtà non lo sono perché almeno così anche i bambini imparano le canzoni cioè con la scusa di andare al cinema e imparano le canzoni quindi un loro utilizzo lo hanno quindi non sono disutilizzi sono una garanzia per me perché so che almeno così i bambini sono acculturati diamine e questo diventa linea oddio ti prego fa tu attimo di mano sul cuore ah è unica realtà oddio l'ho scambiata per l'altra perdono con il tempo scoprirai ci sono cose che fai no stavo pensando è difficile non azzeccare la nota quando sei tu che canti su di te cioè sente quella cosa di distrotto che è una cosa fantastica qualche volta un progetto che sembrava perfetto può non riuscire non è qua un attimo di mano ci sono filmarsi non è sempre scontato effettivamente no no ci sei ci sei neanche se un attimo prima lo è esatto però ci sei tu paura di sé no questo è dreamworks eh si però ascolta va bene così neanche forse direttamente tu e non no è dreamworks beh certo non è disney no quello no oddio mi ripudio brava colpa della canzone si anche lì quali sogni meglio non pensarci questa la censura no invece no perché è troppo bella bambini non ascoltati dai beh dai ha un suo facile la canzone ho preso questo occhionino qui me lo ricordo sarà un'impresa vai sistemalo io credo in te nasce il frutto della passione io potrei fare la brutta persona prendere la foto d'occhio e fare compra e colla la prossima volta lo facciamo ma solo per curiosità ma sono troppo stupida quindi non lo farò siamo diversamente intelligenti su via sono sola ormai a novembre c'è due andiamo a vederlo sai sacro santa di delusioni nuovute troppe sai cantare come canta le montagne l'ho quasi preso l'ho preso l'ho quasi preso l'ho preso io l'ho quasi preso vabbè dai sei lì la canterata ma non voglio ne ho più o meno brillerà di più sono stati un parto sti occhi dai si sai anche se non lo raccontano ecco i fenomeni come si formano ma vuoi vincibili sempre formano amo i miei tatuaggi perché mi ricordano il meglio di me guarda che bravo nessuno mi ferma sono una bomba nel ballo tutto ciò lo conferma io devo confermare le parole che dice perché le invento what can I say except you're welcome la smetti di ricopriarmi? meraviglioso lo so della serie quando ti conosci che serve ok you're welcome ci siamo chi la fece? chi la fece? allunga un pochino quello oh basta lascio così ah va bene come ne voglio fare la nanna su? Mary Poppins no biancanevi idiota vede che hai sbagliato non possono essere la stessa doppiatrice ah oh no vedrai che è una cacata come al solito uh che carina così uh fico si hai lasciato da me lascio mica aggiungere più se non mi risenti no uff ti prego la prossima volta prova sul verde non sull'arancione si va come fondotinta bella 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 aspetta esatto bella cacchio quelle cose che hai visto troppo prima troppo dopo esatto oddio non vedo niente tipo questa la conosco però l'ho vista troppo prima non me la ricordo bene è l'unico verso che vi ricordo perchè ieri li ho risentite tutte poi io non vedo ma se le mi attivate sopra tipo io non vedo tico aspetta fatemi capire è un difetto mio di di vista o vabbè a parte il fatto che si vede sui la pelle esatto ah no sai che manca? manca del perigio trovata non so come ho fatto ma l'ho trovata sicuro a me sembra ancora riuscata come è veloce il vento un uomo vero senza timori arriva un momento in cui mi stacco perchè ne concentro sul lavoro e le canzoni non le ascolto più lo stavo aspettando dall'inizio sei partita? io ancora sai perchè? io un giorno ci arriverò al tuo bindi acuto nel secondo film che hai fatto ho preso il riflesso prenderò anche quello prima o poi le calzette sono la cosa più bella perchè giustamente perchè andate in giro e scappe quando puoi andare in giro in calzette e poi silenzio e gli avvoltoi sulle case sopra la città senza pietà ok scusate mi sono esaurita sono solidale nei confronti dell'altra me tra i due e le città sono simile dopo sei la palette uh doppia freccia vai seguiamoci ciao ce l'ho fatta anche stavolta possiamo respirare finiamo il video tutto per finire il video forse nel caso vi lascerò il link la due verso sinistra, destra, destra, sinistra e va bene direi che vi saluto anche io e ci si vede al prossimo video se destra e sinistra sinistra e destra nel dubbio ciao se si fa prima olè